La nuova nozione di salute La domanda di aiuto psicologico ma anche la mission che viene attribuita allo psicologo che non è soltanto quella di intervenire ex post in presenza di un bisogno conclamato ma soprattutto di prevenire e di aiutare sostanzialmente in modo trasversale le persone a vivere questa condizione di benessere diffuso che rappresenta la nuova spinta, il nuovo obiettivo di salute degli italiani.